Utilizziamo di aver creato una dashboard, vogliamo semplificare la user experience dell'utente con dei pulsanti di navigazione, senza utilizzare il foglio in basso come questo, quindi quando clicco via report vengo reindirizzato sulla pagina del report, se clicco su home page torno su home page. Per creare questi pulsanti basterà andare su inserisci, illustrazioni, forme, selezioniamo la forma di nostro interesse, facciamo un clic destro, modifica, inseriamo il nostro testo e poi se vogliamo gli diamo anche un allineamento verticale, orizzontale, aumentiamo anche il carattere, dopodiché dobbiamo rendere attivo questo pulsante, quindi clic destro sul pulsante, collegamento, sulla finestra che compare andiamo su inserisci nel documento, e selezioniamo il foglio di destinazione, quindi quando noi cliccheremo sul pulsante verremo reindirizzati lì, diamolo ok, ora vediamo che attivo e appunto se clicco vengo reindirizzato sul foglio che precedentemente abbiamo selezionato.